Ciao a tutti da Poderak, bentornati qui su Farming Simulator Che cosa è successo a Poderak? Perché siamo in una nuova mappa Siamo nella mappa Shelling Town Che in pratica ci permetterà adesso di iniziare una nuova serie nel canale riguardo Farming Simulator Per quale motivo questa decisione? Perché purtroppo il salvataggio precedente si è un po' corrotto Dato che ho dovuto giocare con Nick con una versione precedente del gioco Dopo tornando nella versione più nuova il gioco non so per quale motivo non andava più bene Allora cosa ho detto? Inizia una nuova serie ma questa volta in una nuova mappa Che cosa ho pensato di fare quindi in questo video? Allora prima di tutto guardiamo un po' i mezzi che abbiamo Abbiamo un trattore, non vabbè una macchina, un trattore Una trebbia, neanche male, un New Holland E niente altro Abbiamo quindi solo questi mezzi Per quanto riguarda i campi abbiamo il Ah ma abbiamo tantissimi campi Abbiamo il 18 che è tutto erba Il 10, l'11, il 20 La foresta Ah bellissima la foresta Avremo quindi modo di utilizzare un eventuale Scorpion King Ma io sapete che vi dico? Ma io sapete cosa vi dico? Ma andiamo a esplorarla questa mappa Allora dove siamo adesso? Siamo qui Give away No, giveaway Allora che possiamo fare? Ah ma qua Ah ma qua Qua siamo addirittura Al contrario Siamo proprio in Inghilterra allora Ok perfetto Questa è un po' la strada che un po' mi ricorda le campagne del sud Italia Non so perché Anche se comunque ha il suo stile inglese un po' eh Come mappa non è grandissima vedete Però è fatta bene eh Vedo proprio che hanno un po' messo d'impegno per fare ciò Allora 30 km orari in limite E noi andiamo a 100 ovviamente Perché se no altrimenti che podi siamo qua Ah poi una cosa che volevo vedere Ad esempio per andare al negozio Qui che cos'è che abbiamo? Ah abbiamo già un campo gigantesco Il campo 6 gigantesco Non riuscirò mai a terminarlo Ci vorranno 10.000 trebbie Poi Poi vediamo qua Questo campo non è mio Il 4 non è mio Il 7 è anche lui un bel campo Poi diciamo che Qui i terreni non sono neanche tanto regolari Quindi Non potremmo neanche giocare un po' con gli operai Allora Ah mi confondo sempre qua con la strada Che è al contrario Perché siamo in Inghilterra Allora Qui cosa abbiamo di bello? Abbiamo Oh Ecco questa è una cosa che volevo vedere Ma io qua Com'è che faccio? Si aprirà penso quando Acquisteremo il campo Penso Poi Qui sopra Un piccolo ponticino Per far passare le macchine Da un campo all'altro Un bel ponticello Con Un laghetto No che laghetto? Un fiume Ma io voglio vedere Ma dov'è? Ah che qua è la foresta Noo bellissimo la foresta Noo bellissimo la foresta Qui veramente Facciamo tantissime belle cose Guardate la foresta C'è pure una piccola casettina Secondo voi si aprirà mai? Noo Vediamo Vedete che potrò entrare? Anche perché Eventualmente Non so neanche Se c'è un tasto Per farlo Vediamo qua Ok Questa è una casettina Che Utilizzeranno Che ne so I cacciatori Useranno i cacciatori Poi Vediamo un po' Verso Quest'altra parte Se riusciamo a vedere Com'è il negozio Il negozio Penso sia questo New Holland Agricolture E lui? Negozio Si E Marchiato questo negozio New Holland Qui possiamo vendere Prendere in affitto C'è un bel furgoncino Mh Niente male New Holland Ok Ok Questo E' un altro campo Vediamo il nostro Si L'11 Che è già coltivato Ho visto Qua No bellissimo Quella strada Quella strada lì Laterale Che abbiamo appena visto In pratica Ci permette di andare Un po' Nelle strade vere Di campagna Oh Sento le campane Non so se Ah c'è la chiesa qua Ah ma c'è proprio Un cimitero Andiamo A vedere Spegniamo il motore Qui come si aprirà? Ma si ma ci sarà Un tasto Per aprire Sono io che Non so Niente Mi sa che Scavalco Sulle lapidi Non c'è scritto niente Comunque carina Eh Mi dia di mettere Una chiesa Effettivamente Su Su Farming originale Non è che c'è Una chiesa Qua c'è Un piccolo magazzino Non male Non mi dispiace Neanche quest'opera Ah beh Qua c'è l'entrata Che potevamo utilizzare Per far passare Il nostro Bel furgoncino Ed è bello Pure grande Questo Questa struttura Qua cos'è? La posta Vorrei che Il livello del gioco Per quanto riguarda Il volume Sia troppo basso Dopo scopro che Invece è alto Lo sento un po' basso Spero a voi Almeno lo sentiate Poco poco Ok Ho alzato Leggermente Proprio Leggermente Ah qua c'è un motorino Ma lo posso abbattere Sì Raga posso abbattere Il motor Vedete che me lo posso rubare Andiamo No È troppo pesante Arriviamo Arriviamo A 100 like Mi rubo Il motorino Eh Sono veramente curioso Di sapere Come aprire Come aprire i cancelli Sempre se Si può E niente Alla fine La mappa Non è poi Così grande Cercheremo Di concentrarci Allora Su L'agricoltura Ah poi Gli animali Qua non ci sono Gli animali Non Ah sì 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 Ci sono gli animali Sono tutti In fattoria E anzi Direi di andare A proprio a vedere La fattoria Qua siamo Contromano Ma che C'è Frega Ma che C'è Porta Tanto non passerà Mai nessuno Di qua Oh Sta macchina Qua Arriva a 150 Vediamo anche Dopo di prendere La trebbia Prima di Salutarci Per Iniziare Un po' A metterci In gioco Perché Ah no Ma non è a doppio senso Sta strada Ma quanto è bello Quanto è bello Questo paesaggio Ok Siamo arrivati Sì Stavo facendo un po' Familiarità Con il gioco Accendiamo le luci Ma non c'è bisogno Alla fine È giorno Come faccio ad andare adesso Dall'altra parte Ah ok Basta Basta premere così E il cancello si apre Bellissimo Mamma mia Questo sì che È una mod Andiamo Si richiude da solo Ma Bellissimo Ok Questa invece Quella che state vedendo È la fattoria Allora Abbiamo il nostro trattore La trebbia I silos Poi Cos'è che è questo Possiamo tagliare l'erba Bene Bene Sì Mi pare di sì Poi qua Cos'è che è Sono gli animali Non so Se sono polli Gallini Che sono qua Dove sono io Ok qua Polli Mi sa Quello lì davanti Sono polli Poi Di lì Mucche Che sono Non si vede benissimo Il simbolino Comunque qui ci sono Tutti gli animali Anzi Diamo un'occhiata Ai polli Vediamo quanti ne abbiamo Parcheggiamo Il nostro Furgoncino qua Le luci Non si spengono Le spegneremo Eccoli qua I nostri polli Ah Che bei polli Che ho Avete già fatto Qualche uova Che bello Che bello Ciao Gallina Ina Ina Codè Ma solo un uovo Mi avete fatto No Che cattivi Che siete Ho Tantissimi polli Ma poche Ma poche uova Allora Dove che è Il mio furgoncino Anzi Io direi Di andare A questo punto Alla trebbia Ah che bella Trebbia Che ho La agganciamo Sempre se posso Penso di si Che è agganciato Lo usciamo fuori E andiamo E andiamo A vedere Quali campi Possiamo Magari Già raccogliere Ok Usciamo Ovviamente Dobbiamo Aprire il cancello Sono avvicinato Troppo Sì Ok Lo chiediamo Il cancello Ah Questo campo Giù È già mio Vediamo Il cancello Se no Ci vengono A rubare Non conosciamo Il posto Quindi Meglio Non fidarsi Troppo Vediamo Dove possiamo Andare Mi chiede di qua Posso passare Sì Ma posso Già raccogliere Ah non lo so Io Proviamo Vediamo Di attaccare La trebbia Non lo dire Neanche Di che cosa sia Allora Di che cosa Allora Attacchiamo Qua Dispieghiamo La nostra Trebbia Ok Si tratta Di grano Fino Non so Cos'è Non mi ricordo Frumento Mi pare E direi A questo punto Di Iniziare Questa avventura Iniziamo A trebbiare Questo Campo Infinito Sono molto Curioso Di sapere Ad esempio Il cassone Ne avremo uno Già a disposizione Penso di si Perché Alla fine Non ho visto Tanto bene Gli accessori Che abbiamo In ogni caso Questa qui E' la mappa Che vorrò Portare avanti Fatemi sapere Se Voi Siete interessati A questo genere Di mappa Sicuramente La porterò Se avete Consigli Per qualche Mod Una mod Abbastanza Carina Perché no Magari La porterò Che ne dite Iscrivetevi Qui sotto Nei commenti Lasciate un bel like Al video Se vi è piaciuto Vi lascerò Il link Del gioco Scontato Qui sotto In descrizione Sevitemi Su Facebook Instagram Telegram Trovate sempre Il link Qui sotto In descrizione E noi ci vediamo Alla prossima Ciao